Si è percepito l'intenzione di un'Italia che vuole allargare gli orizzonti, ce ne sono tutte le possibilità, è chiaro che noi abbiamo una vocazione europea, mediterranea, ma adesso bisogna che ci rivolgiamo con grande intensità a quest'area del mondo che stanno crescendo, che vogliono assolutamente l'Italia, il nostro problema è dargliela, non c'è altro problema. E in questo giro, quindi di colloqui internazionali, domani sarò a Bruxelles a contare Voroboi, a contare Juncker, a contare Barroso, per cercare di riconfermare l'orizzonte europeo che abbiamo come Partito Democratico e quindi anche come possibile governo in questo Paese. Siamo il partito più europeista che ci sia in Italia e vogliamo contribuire a migliorare le politiche europee, che fin qui per noi non sono soddisfacenti. credo che l'orizzonte internazionale sia un tema di fondo per questo Paese che è troppo ripiegato su se stesso, non è all'altezza ancora di quello che il mondo si aspetta da lui e quindi cercherò anche nelle prossime settimane di tenere, pensavo, anche questo profilo. l'Italia deve avere senso di sé per il suo ruolo nel Mediterraneo e nel mondo. Io credo che questa sia una priorità, francamente.